Ciao a tutti, chiunque, chiunque abbia giocato a basket nella vita, ed ho fatto anche io, anche se non si direbbe, ha sognato di segnare l'ultimo temesco, rebound, balzo, è la storia di una piccola squadra, di un ricerche di Busan, raccapezzata alla bella e meglio, che ci prova, ci prova a sfidare il Golia. È la storia di un'impresa sportiva, i film sportivi del resto ci sono sempre piaciuti, li abbiamo sempre inseriti all'interno delle sezioni della felice, ma rebound aggiunge qualcosa in più, c'è qualcosa in più di una semplice storia di alterna redenzione e sconfitta, e forse questo qualcosa in più è dettato proprio da questa bellissima ceneggiatura. Siamo veramente onorati di avere qui una fonda delegazione per questo film, che arriva dall'app Quella del Sud, abbiamo il produttore Billy Huckman, abbiamo la sceneggiatrice, importantissima sceneggiatrice, che ha firmato una delle serie tv su Netflix, più famose e più amate anche da noi ovviamente, che è Kingdom, e abbiamo l'attore, che è anche giocatore di basket, e naturalmente il regista. Quindi adesso li ripeto, così li ringraziamo, li facciamo sedere sul palco, il produttore Billy Huckman, la sceneggiatrice, Billy Huckman, Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Rebound 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 in a 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 s a a a a a a in a small, in the city of Busan, in a small high school. 25살짜리 젊은 coach, 6명의 어린 선수들이 성장해 나가는 이야기입니다. It's a coming of age story for the 25-year-old coach, as well as for the six young players on his team. Yes, I think it's a fun that you can see the growth of the players. And this film is still happening in Korea. If you don't know football, please enjoy it a lot. Thank you. I hope that you enjoyed it a lot. I actually have a question for the scriptwriter, because this is a very man's story, because you wrote a story about men's sports. Which challenge did you afford to write up as a woman? 문정호 저는 이번에 배우를 쓴 김희 작가입니다. Yes, I'm coming to the screenwriter of this film. And there wasn't a particular challenge, I think. in the gender of the characters because there's something kind of universal in all of their stories. But I'm used to working on film, like fantasies, I do films with quite kind of uplandish storylines and so in this case it's kind of taking a little bit of the energy. So probably the biggest challenge was working together with your husband, the director. So they are a couple of course. So Billy, your turn? Yeah. I'm the producer. I'm the producer. I'm the producer. I'm the producer. There's one thing more than anything else that I just hope for this film and that's to receive the audience award at this festival. I'm actor Jim Jung and this movie story is very excited and many had a passion. per quanto a quei come mostrato da esperanza so che come potenti inscrizione i hope that as you're watching the story it'll kinda give you some inspiration to try something new like a lot of characters in the film ea, i do think that BUTSAN in a bless da city o a usdine is a very triste masa Grazie a te, ciao. Grazie.